Amici di Youtube ben trovati a Marco Liguori in questo video parliamo di un dramma che sta colpendo il famoso musicista ore di paura e preoccupazione nel mondo della musica e prima di iniziare vi ricordo che a 500 like pubblicherò immediatamente un nuovo video non dimenticate di attivare la campanella per ricevere le ultime notifiche non riesco a camminare non sento gambe braccia questa è la dichiarazione shock del famoso musicista quello che sta accadendo a Sofiane Stevens sta tenendo in apprensione in ambasce l'intero pianeta il famoso cantante americano ha dichiarato quello che è il suo tremendo calvario mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune chiamata sindrome di Guillain-Barré fortunatamente c'è la cura ma il mese scorso mi sono svegliato una mattina e non riuscivo a camminare queste sono state le tremende parole del famoso cantautore le mie mani le braccia e gambe erano intorpidite non avevo forza sensazione e mobilità ha fortunatamente come esternato dallo stesso Sofiane Stevens per la malattia c'è una cura vi sono aggiornati sulle sorti di questo cantautore amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi sui canali youtube marco liguori marco liguori news e marco liguori psicologia e crescita personale ciao a tutti grazie 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 grazie